...accompagnato veramente da un artista veramente eccezionale, da un soprano veramente eccezionale, un artista veramente eccezionale che insieme girano tutto il mondo, infatti potete vedere e ammirare anche i loro abiti da sera, come è giusto che in questo castello ci siano e sono Amedeo Moretti e Giovanna di Caterina di Luca, eccoli qua! Buonasera, 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 il soprano Caterina di Luca e il tenore Amedeo Moretti che insieme indepterranno veramente una grande canzone del repertorio classico napoletano Ieturria Basà. Allora, maestri, complimenti di essere qui al Premio Internazionale Città di Napoli e credo che sia un'emozione forte cantare in questo castello, anche se voi ovviamente girate molto e avete visto tanti palchi, però cantare qui in questa bella città credo che scaturisca sempre un'emozione particolare. Certamente, io sono napoletano, lei è editor del Greco, quindi comunque è delle nostre parti. Ringrazio il Presidente Cannone per averci dato questo onore e per avermi dato questo premio e sono veramente lucingato. Io insegno al Conservatorio e sono un tenore, un cantante lirico, ho cantato un po' in tutto il mondo, ho cercato di fare il mio meglio, di portare bene la città di Napoli in tutto il mondo. Allora noi lasciamo alla bella e grande voce del tenore Ameteo Moretti e di Giovanna Caterina Di Luca, ai due nomi spettacolari e bellissimi, signori e signori, Ieturria Basà. Prego. Scusate per la regia. Possono cantare con il mio e con questo qui, in modo che magari li trovate meglio, va bene? Prego. Facciamo un applauso, ecco. 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 Sento spuonare il prognio, che stanno colmo con teo. Turmentam c'è, oh Dio, chissà tuon dite son. Sento spuonare il prognio, che stanno colmo con teo. Sento spuonare il prognio, che stanno colmo. Sento spuonare il prognio, che stanno colmo. Sento spuonare il prognio, che stanno colmo. Grazie. 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 Grazie.